Abbiamo effettuato la misura cautelare in carcere in confronto del soggetto dell'età senegalese, un 42enne che un mese fa venne arrestato dalle volanti per distanza pubblica ufficiale. In quell'occasione fumo contattati in quanto venne segnalata una lette in famiglia. Da qui partono le indagini, che durano circa un mese e a seguito delle quali riscontriamo un quadro di maltrattamenti in famiglia molto grave nei confronti della moglie. Una donna che non ha mai denunciato i fatti, una donna che più volte si è rivolta al pronto soccorso, dove gli sono state riscontrate lesioni guaribili in diversi giorni, lesioni anche causate dall'utilizzo di oggetti contundenti, quali bottiglie di vetro ad esempio. In un caso in particolare, una bottiglia di vetro venne spaccata letteralmente sul viso, provocandole delle lesioni tuttora visibili in cicatrici che la donna si porterà per tutta la vita. Abbiamo proceduto anche la contestazione dell'attentato omicidio aggravato nel confronto della figlia della neonata da appena 45 giorni della coppia, in quanto nell'ultima aggressione l'uomo, ubriaco come abitualmente era ubriaco, si è scagliato contro la donna cercando di prendere la figlia. Questa ha cercato di scappare, ha cercato di chiudersi in bagno, seguita dall'uomo, presa a pugno e ha consegnato la figlia all'uomo, il quale l'ha gettata a terra. Da un'aperizia fatta a fare dalla procura sulle lesioni riportate dalla piccola, è emerso che qualora questa avesse subito un colpo da un'altra parte del corpo, questo avrebbe potuto determinarne il decesso, che solo per caso furtuito non si è verificato. La casistica sui reati di maltrattamento a Doristano cosa dice? Un reato in ascesa? Probabilmente ci sono più denunce, non so se in realtà è il reato in ascesa o se sia semplicemente un dato statistico di un maggior numero di denunce presentate.